Buongiorno bambini e bambine, sono Simonetta, sono un'insegnante di danza della scuola di danza cento city ballet e oggi vi propongo un'attività un po' speciale che ha a che fare col movimento ma non necessariamente la danza e quindi può interessare anche i maschietti e anche chi fa altre attività di tipo ludico sportivo. Siccome siete certamente bambini o dell'ultimo anno di materna o di prima massimo secondo elementare della scuola primaria fatevi aiutare assolutamente da un adulto, un papà, la mamma o da un fratello o da una sorella grandi. Allora per fare questa attività gioco che si intitola il gioco delle carte serve del materiale, adesso vi faccio vedere. Allora abbiate pazienza perché io non ho più bambini piccoli come voi a casa quindi non ho proprio esattamente il materiale giusto per fare quindi io sono sicura che voi invece sarete super attrezzati. Allora serve del cartoncino oppure anche dei fogli di carta un po' più grossi rispetto alla carta che si usa per fare le fotocopie. Servono appunto dei fogli da fotocopia perché bisogna fotocopiare se avete già un libro che parla di sport o di attività che vi piacciono oppure chiedete alla mamma e papà di scaricarvi i disegni da colorare da internet, loro lo sanno, basta digitare tipo disegni danza da colorare e ne scegliete almeno una decina, tutti diversi. Vale la stessa cosa per il calcio, per il basket, per qualunque tipo di attività. Quindi una volta scaricati poi si stampano e poi servono, servono della colla, servono dei colori che vanno tanto bene sia i pastelli che i pedarelli e un paio di forbici, mi raccomando, quelle date ai bambini, queste non sono date ai bambini perché hanno la punta, voi sicuramente avrete quelle con la punta arrotondata. Allora, cosa si fa? Una volta stampati o fotocopiate le foto che avete scelto, ovviamente si tagliano, vedete? Si tagliano in base a quanto grandi poi riusciamo a fare i nostri cartoncini. Cioè mettiamo il foglio, lo mettiamo sopra e tagliamo sia il cartoncino che il foglio che abbiamo fotocopiato della stessa dimensione. Quindi adesso questo è grande più o meno così, l'ho trovato già fatto così, quindi metto il mio foglio che come vedete è più grande e allora lo ritaglio in modo tale che sia uguale, dopo vi faccio vedere che ne ho già dai fatti eh, più o meno eh, guardate, vedete così è bello rigido e dopo ci posso fare quello che voglio. Prendo la colla, ma voi siete espertissimi, espertissimi, mettiamo la colla qua, qui, ai bordi, voi lo so che siete molto 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 esperti, vado indietro così, vedete? E incolliamo, guardate, incolliamo, ecco il nostro disegno incollato, vedete? Guardate che ne ho già fatti degli altri, una volta che avete incollato vi potete colorare a piacere, guardate, io ho scelto solo disegni che riguardano la danza perché questo è un gioco che faccio fare anche alle mie bambine piccoline in palestra, quindi vedrete solo dei ballerini, però voi potete scegliere quello che volete. Guardate, ho colorato semplicemente così, ho anche lasciato tutto bianco, oppure fare colorare un pochettino di più, punteggiare, come preferite, vedete? Bene, una volta che avete fatto questo lavoro, dietro, se lo sapete fare, lo potete fare voi, se non lo fate fare da un adulto, vi fate scrivere per ogni cartoncina dei numeri, da uno in poi, vedete? Io non sono molto brava, però insomma, voi avete tanta fantasia, potete farli diversi, da uno fino a quanti ne avete? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, quelli che sono. Bene, una volta fatto, mettiamo via tutto e li disponiamo sul pavimento, guardate, girati col numero in su, per terra così, eh? Si vedono non tanto, perché il pavimento è dello stesso colore, ma bene. A questo punto, allora, le ballerine, quelle che fanno danza, possono disporre in cerchio, possono mettere una musica e cominciare a girare attorno al cerchio e, a un certo punto, quando, non so, la mamma dice sto, o quando vi volete fermare, fermarsi, scendere giù con il busto, con le gambe belle dritte, riconoscere il numero uno, prendere il cartoncino numero uno e vedere che foto c'è. E dopo, bisogna mimare la foto che c'è del cartoncino. Dopo di che, le mettiamo da parte e continuiamo, fino alla fine, e questo è il gioco numero uno. Il gioco numero due, invece, che è molto più divertente, secondo me, bisogna coinvolgere sempre una mamma, un papà o un fratello, una specie di caccia al tesoro. Chiedete alla mamma di nascondere nei vari punti della casa i vostri cartoncini e dandovi delle indicazioni o anche dicendo solamente, perché se siete molto piccoli, vi possono solamente dire, ma il numero uno è vicino al divano, sotto la tenda, sopra. Dare delle indicazioni di questo genere, ok? E voi dovete, mano a mano, cercare ogni cartoncino in sequenza, da uno fino all'ultimo, quindi dal primo fino all'ultimo. Per i maschietti, o per chi fa altre attività, potete creare proprio dei percorsi, quindi li potete mettere in fila e fare tipo lo sveglio, oppure li possiamo mettere vicini e fare i saltini. Usate tanta, tantissima, tantissima fantasia e poi non li dovete buttare via dopo. Li riponete in una scatola, andrebbe bene anche una scatola grande così, li riponete lì insieme ai vostri giochi e magari li ritrovate fra qualche mese, anche quando non siamo più chiusi in casa e insieme a qualche amichetto lo potete rifare in gioco. Ok? Spero che vi sia piaciuto. Un bacio, alla prossima attività.